è la prima volta che vedete un mio video di volto e ho deciso di riprendere in mano il mio canale di youtube e renderlo più un canale di viaggi, foto e quant'altro attualmente sono in Repubblica Ceca, viaggio di nozze e voglio condividere con voi tutti i luoghi che vado a visitare ho già creato alcuni video e spero di poter creare un insieme, una raccolta di tutti questi luoghi tra l'altro potete seguirmi sia su facebook che su instagram basta che cerchiate Ottavias Photograph con il genitivo sassone per quanto invece riguarda instagram dovrebbero esserci dei trattini che in questo momento non mi ricordo però dovrebbe essere ottavia-s-photograph e niente, direi che spero vi facciano piacere questa nuova tipologia di video perché è veramente da tanto che non ne carico la qualità attualmente sarà un po' così quando potrò ovviamente utilizzerò la mia adorata Nikon e ci vediamo prossimamente ciao